benvenuti su turbodies mount iniziamo già perché purtroppo io non ho intro un intro decente inizio già con bigger combo che a ragazzi sono 100 episodi e passa che torturiamo mister incredible lo so che ormai quel meme è ormai un meme più odiato il goku drip però mio dio cazzarola si un ops ancora non vabbò comunque ma come ha fatto a non andare no per sbaglio e ragazzi ma comunque non c'è niente di importante per babbo babbo diciamo che è stata abbastanza allora io direi di però cambiare povero mister incredible andiamo per debuttare questa nuova skin perché non giocare a the good way allora ecco com'è no non si no si rifiuta di girare ah ok mo sull'auto c'è xuder contro g schianto stavo torturando un chad perché io sto facendo ste cose intanto intanto vedete quanto che è più notabile mo cosa fai chad cosa è successo al chad dai il chad voglio vedere se può scappare da qua vai camioncino xuder contro g schianto tra l'altro un giorno devo fare un video dove photoshop cose a caso una live vabbbo non lo so cosa fa wow grande camioncino xuder contro g schianto ho detto che lo sistema per poter andare sulla rampa no 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 ok rimane ancora un pezzo no non è intatto quel pezzo cacchia rolla scusate ragazzi che io sto registrando nello stesso posto anzi nello stesso letto della memoria nella della reaction a quel video di sigle delle cartone dei cartoni animati e quindi vabbò allo stesso modo proprio 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 perché io sto ridendo a ste cose dai token board vai 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 flip eh vabbò board flip fatemi rivedere cosa aveva fatto mi prego voglio andare a rivedere cosa aveva fatto dopo tutto questo boom io lo voglio rivedere mi prego dopo tutto dopo essere scappato a tutto viene letteralmente boncato da un coso e si interrompe la partita mio dio che genialità da hit te fan va là siamo tutti pronti per hit te fan tra l'altro ragazzi domani voglio fare una reaction ad un paio di video interessanti i video sono il primo video che feci qua in calabria quando feci la casa in calabria è il primo video che feci che feci che è il primo video è l'ultimo video del 2021 semplice un atto che però mi sono dimenticato di togliere non volevo andare in cinematic cheese non è nemmeno morto per vabbò cosa usiamo usiamo il quad fin che è un quad fin fighter con questo e tra l'altro l'ho richiesto io va bene comunque mi dispiace per tutti i chad che purtroppo questo è un manichino ok un manichino crash test con la faccia del chad perché devo fare content nonostante il chad sia un meme immortale non lo so ragazzi anzi dopo anzi uso un'altra immagine dopo questo piccolissimo giro vola piccola no non era quella come facevo tra l'altro c'è questo con con questo cioè ragazzi come puoi prendere seriamente un aeroplano con questo davanti vabbò io direi di cambiare però la faccia del manichino crash test no comment semplicemente lion che reagisce al rapimento di aldo moro mamma mia un giorno devo photoshopare lion che reagisce all'incidente dell'11 settembre 2001 ovviamente lo dico perché non sono stupido lo definisco come incidente nell'11 settembre 2001 non perché sono stupido ma perché voglio provare a farlo vabbò avete forse avete già capito di cosa io sto parlando nettamente è andato a schiattarsi con forza ma veramente è stato anche distrutto e tutto è stato distrutto posso per favore rivederlo ok voglio rivederlo a a due per cioè letteralmente boom ho detto che lo rimetto bene cazzarola sti replay sono più difficile della bagliolo da letteralmente si schianta con tutta forza su di esso mio dio ultima partita di oggi oggi questo è un episodio corto mi dispiace ragazzi ma sono abbastanza pigrotto visto che è iniziata l'estate sono già abbastanza pigrotto wow no non andare nelle torri non andare nelle torri ma si è completamente distrutto tanto voglio creare una playlist di questi episodi di turbo di smont anche se però li faccio così tanto che è come avanti un altro non posso tecnicamente fare una playlist accurata tra l'altro un giorno devo riportare anche il games il problema è che ragazzi ci metto una vita per poter per poter fare una per poter fare per poter programmare una partita ma sarebbe qualcosa di bellissimo o no sta sta flippando boom mi dispiace veicolo vabbè io direi che in questo potremmo anche salutarci anzi prima giochiamo no non volevo andare premium no no che cosa vai no dovevo farlo scusate ragazzi original classic vai zoom ma si è comple ma si è sfasciato adesso lo voglio fare a full speed forse con con che ne so un un grim wagon zoom vai non si è completamente distrutto però no io devo adesso devo completamente distruggerlo si mettiti vai un atto che forse devo cambiare anche il personaggio mister dismount si è completamente distrutto vabbò io direi di salutarci vabbò ci salutiamo ci vediamo ragazzi